Cari amici, bentrovati. Avevo molto piacere di registrare questo video perché quest'anno la festa più amata dagli uomini, San Valentino, cade proprio lo stesso giorno di un'altra data importante che è l'inizio della Quaresima e la sincronicità di avere queste due date insieme per me è molto interessante. Alcuni di voi si chiederanno ma come mai Daphna che si occupa di spiritualità, di connessione al divino, si interessa San Valentino? Eppure sono anni che cerco di celebrare con gli amici, le persone che mi seguono in modo più consapevole questa festività e visto che quest'anno coincide anche con l'inizio della Quaresima che è un'altra occasione per me preziosissima dal punto di vista del lavoro interiore, ho scelto di offrire questo dono ed approfondire un po' entrambe queste festività. Allora, iniziamo dalla festa più amata dagli uomini che è San Valentino. Molte persone sono in reazione con questa festa e molte altre, spesso le donne, sono lì che attendono questa festa, questa occasione proprio come test, come prova, come verifica, come eccetera eccetera. Naturalmente entrambe le modalità, quindi entrambe le aspettative o le reattività non è quello che noi veramente stiamo cercando di mettere a fuoco all'interno di questa frequenza. Quello che negli anni ho imparato è che non ci si può dissociare completamente da una frequenza che è diventato ormai qualcosa che fa parte di questa incarnazione umana, nel senso che, vi faccio un esempio, per molti anni ho rifiutato il Natale, nel senso che non sopportavo tutta quanta la frenesia per andare a comprare i regali, il Natale aveva perso totalmente quella frequenza spirituale, quella frequenza di profondità, eccetera eccetera, e soprattutto veniva l'inverno vivendo io in Italia, quindi per molti anni ho cercato di scappare dal Natale, andando a fare dei viaggi o trascorrendo l'inverno all'estero o comunque andando a passarlo nei luoghi di ritiro, finché sempre di più ho compreso che entrare anche nella quotidianità di quelle che sono diventate delle ritualità come il pranzo di Natale, anche se non arrivo da una famiglia di tradizione cattolica e quindi non ho frequentato i pranzi di Natale ma ho avuto molti compagni che invece ricevevano gli inviti della famiglia per questo tipo di festività e quindi mi sono reso conto che andare ad allinearsi a quella che è quella frequenza che in qualche modo viene emanata in quel giorno e usarla al nostro massimo bene per la nostra elevazione, per la nostra evoluzione, è tutta un'altra cosa, allora non si subisce più quella frequenza ma la si onora al meglio delle sue possibilità, ad esempio molto spesso mi rendo conto che nonostante io non abbia un lavoro 8-18 diciamo quindi posso liberarmi apparentemente quando voglio per andare a fare delle passeggiate, molto spesso mi accade di andare a fare delle passeggiate o dei trekking proprio di domenica e spesso mi dico ma è possibile che vivi in un luogo così bello dove puoi andare a farti le passeggiate quando vuoi senza avere nessuno insieme a te eppure alla fine ci vai di domenica e sempre di più comprendo che comunque la domenica ha una sua energia attrattiva, ha una sua frequenza che vuole essere in qualche modo onorata in una modalità che aleggia intorno e quindi cercare di cavalcare quell'onda piuttosto che subirla o piuttosto che reagire e fare le cose per ribellione è sicuramente un atto di intelligenza. Quindi tornando a questo benedetto San Valentino è un giorno in cui comunque ci viene chiesto di almeno gli input esterni sono quelli di approfondire il tema delle relazioni e quindi tutto ciò che è connesso alle relazioni romantiche. Come racconto tantissime volte uno dei miei grandissimi maestri sono da sempre le relazioni soprattutto le relazioni che sono state più difficili più lunghe più traumatiche sono quelle che mi hanno permesso poi di fare dei salti evolutivi immensi ed è per questo che quello che vi invito in questa giornata per la quale ho scelto anche di offrire dei doni particolari è proprio quello di riallinearci alla scelta che abbiamo fatto delle nostre relazioni e a dedicare uno spazio tempo per riallinearci agli insegnamenti di queste relazioni perché se noi scegliamo all'interno della nostra vita una sfida evolutiva in qualsiasi forma ma poi ci arrabbiamo con questa sfida e pensiamo che sia ingiusta non la vogliamo la rigettiamo la nascondiamo eccetera eccetera è come aver chiesto un dono e non averlo scartato veramente non aver gustato quel dono so che quando si parla di relazione di sofferenza di traumi tutto questo viene vissuto come qualcosa di assurdo ma proviamo solo per un momento anche solo come una storia narrativa una favoletta che viene raccontata ai bambini provare ad ipotizzare che ogni nostra relazione ogni nostro incontro magari non la persona che incrociamo al volo per strada anche se c'è uno scambio di sguardi se c'è un sorriso potrebbe essere che anche quella persona è stata importante in altri pregressi in altre vite passate quindi ipotizziamo per un attimo che ogni persona con cui abbiamo una relazione importante quindi i membri della nostra famiglia gli amanti i professori datori di lavoro sono anime scelte con delle caratteristiche particolari per permetterci di fare dei salti evolutivi particolari e quindi proprio come piccolissima pratica vi invito oggi a dedicarvi anche pochi minuti prendendo un foglio bianco e scrivendo le persone che vi hanno fatto più soffrire le relazioni che sentite che in qualche modo ancora non avete appieno assorbito nel loro dono nel loro insegnamento e di provare a prendere il nome di questa persona e scrivere accanto qual è la ferita più grande o qual è l'emozione che ancora vi suscita per ricollegarvi a quel nome e provate una volta finita a questa lista ad andare a riprendere quel tipo di frequenza e a iniziare a dargli una possibilità trasformativa utilizziamo questo san valentino per permetterci di andare a recuperare dei sospesi e vedere se possiamo recuperare un po' di doni dietro a quelle ferite e quindi ipotizziamo che qualcuno ci ha ferito perché ci ha abbandonato e quindi possiamo vedere la parola abbandono possiamo per un attimo come se lo spiegassimo ad una persona estranea pensare qual è nell'abbandono l'opportunità che cosa imparo io se sono abbandonata che cosa posso far emergere in me in che modo quell'abbandono mi ha permesso di crescere e accanto a quella frequenza scrivo in lettere più grandi scrivo in stampatello l'occasione la virtù la qualità l'insegnamento l'opportunità di quel tipo di sfida e andando avanti ad esempio posso incontrare la solitudine la sofferenza l'ingiustizia la paura qualsiasi cosa che emerge provate ad essere specifici e poi tornare ad alcune di queste parole e provando proprio a raccontarlo a qualcun altro quindi provando a dialogare con voi stessi senza identificarvi non pensando che quella cosa sia voi ma iniziando a prenderne una sana distanza proprio come se osservaste questa parola come una sostanza da laboratorio con quel sano distacco con quella sana equanimità neutralità e provate a vedere effettivamente in quella parola in che modo si nasconde un'altra parola si nasconde qualcosa che è proprio quello che avete scelto si nasconde il dono è una pratica molto semplice molto istintiva ma che potrebbe aiutarvi a dare un po' più di fertilizzante a quelle relazioni a quelle ferite che sono ancora un po' cristallizzate permettergli quindi di rifluire un po' di ricevere un po' più di calore di ricevere un po' più di espansione dal cuore perché ciò che accade quasi sempre ogni volta che con molta amorevolezza e senza giudizio ci permettiamo di ritornare ad osservare e naturalmente prima vanno sentite delle emozioni contratte delle ferite nascoste e quindi proviamo semplicemente a permetterci di ricontattarle nel sentirle senza giudicarle e provare a vedere che cosa si nasconde in loro il secondo dono che vorrei offrirvi con questo approfondimento è dedicato proprio a questa coincidenza di date quindi all'avvio della quaresima ci sarebbe tantissimo da dire sulla quaresima ma voglio cercare di darvi proprio il distillato di quella che è stata la mia esperienza della quaresima dello scorso anno che è stata una di quelle che ho vissuto in modo più forte perché mi ci sono dedicata totalmente ogni cosa a cui ci dedichiamo con totalità ci dà un certo tipo di frutti nella parola quaresima sentite la parola 40 perché sono 40 giorni prima poi dell'inizio della Pasqua questa preparazione alla Pasqua, la Pasqua per me è un periodo sempre molto molto importante è un periodo dove offro sempre un ritiro molto particolare di elevazione della coscienza quest'anno sarà dedicato proprio alla coscienza cristica e all'apertura del cuore quindi sarà proprio un ritiro di grandissima espansione di coscienza nel senso proprio di risveglio e di apertura del cuore questa chiave meravigliosa per la nostra evoluzione questa preparazione quindi alla Pasqua è data da questi 40 giorni i 40 giorni tornano in tante cose, i 40 giorni nel deserto, i 40 giorni sono i giorni in cui si dice è buono poter rimanare un certo tipo di preghiera perché venga ascoltata ma oltre a offrirvi l'occasione di iniziare dal giorno di San Valentino per 40 giorni un certo tipo di pratica che adesso vi suggerirò quello che vi invito a fare oggi è proprio di ridicarvi un tempo di qualità per mettere a fuoco qual è una vostra abitudine davvero davvero nociva qualcosa che sapete che non vi fa bene può essere qualcosa di molto piccolo, mettere lo zucchero nel caffè come qualcosa di molto grande e come continuare ad andare a fare un lavoro che sentite che vi fa male al cuore o qualcosa come non fare per niente attività fisica possono essere tantissime cose diverse mi chiedo però di sceglierne una e di iniziare anche dal piccolo perché dal piccolo che poi come dico sempre c'è quell'effetto di capitalizzazione per cui iniziando a fare una cosa ma con costanza e questo sarà il mio invito, vi spiegherò come allora veramente vedremo i risultati quindi scegliete un'abitudine che sapete che veramente non vi fa bene e iniziate con questa abitudine a formulare un vostro fioretto io non riuscivo bene a capire l'utilità del fioretto, l'utilità del voto ma in realtà ne ho scoperto il beneficio meraviglioso perché è prendersi un impegno con se stessi facendo testimone in qualche modo l'esistenza, la vita e in questo caso utilizzando un periodo specifico proprio dedicato a questo che è quello della quaresima che sostiene in questo tipo di purificazione in questo tipo di riallineamento in questo tipo di costanza in questa voglia di togliere le cattive abitudini per cui quello che vi suggerisco per avviare questa vostra quaresima è quello di prendervi del tempo e da uno spazio di centratura iniziare a scrivere anche più abitudini nocive che voi volete in qualche modo eliminare dopodiché ne scegliete una non iniziate da qualcosa di molto difficile perché per noi è importante che possiamo vivere l'esperienza che prendiamo un impegno con noi stessi anche piccolo ma lo portiamo avanti fino alla fine del termine che ci siamo dati in questo caso 40 giorni quindi la scegliete la definite per bene adesso vi farò alcuni esempi e poi la portate avanti per 40 giorni e al quarantesimo giorno vi regalate in qualche modo un premio vi gratificate per aver portato avanti fino a compimento questo tipo di fioretto questo tipo di voto questo tipo di promessa per il vostro massimo bene con testimone la vita stessa perché vi racconto questo? perché l'anno scorso è stata la prima volta dopo tanto tempo che ho fatto sia la quaresima che questo fioretto in modo veramente impeccabile e ho scelto un'abitudine che mi dava molto fastidio cioè che molto spesso facendo degli eventi tardi la sera la mia energia era molto alta e quindi in qualche modo andavo a letto tardi e poi la mattina dopo mi svegliavo tardi e questo sapevo e sentivo che non mi faceva bene e oltretutto molto spesso per far scendere diciamo così questa energia o per comunque aiutarmi ad andare a dormire mi mettevo a vedere dei cartoni animati delle serie, delle cose veramente leggere però che comunque spostavano la mia energia verso qualcosa di non elevato diciamo e quindi il mio fioretto l'anno scorso è stato quello di andare a letto entro le 10 e dopo cena dedicarmi solo ad attività che elevavano la mia frequenza interna quello che è successo è che per rispettare questo voto che è stato rispettato io ho totalmente trasformato una mia abitudine cioè dopo questi 40 giorni l'esperienza diretta del corpo di andare a letto entro le 10 poi magari mi mettevo a leggere dei libri di un certo tipo facevo delle pratiche però entro le 10 io andavo a letto e quindi automaticamente il mio ritmo ha iniziato sempre di più a prendere una costanza una regolarità che mi ha aiutato tantissimo e dalla quale poi non volevo più tornare indietro perché tutto il mio sistema ne aveva giovato questa è l'esperienza meravigliosa che ci può dare un fioretto questo tipo di costanza perché ci può riportare all'esperienza concreta del corpo che scopre che sta meglio in una certa modalità tutto il sistema poi ci sostiene nel continuare quel tipo di retta rettificata abitudine non l'ho poi diciamo così mantenuta sempre sempre capita che vada a letto più tardi capita che ho ripreso a vedere dei film o delle serie tv o comunque dei cartoni animati quello che mi piace ogni tanto vedere la sera non faccio più sempre solamente attività evolutive da dopo cena alle 10 però si è mantenuta totalmente questo impatto per cui continuo ad andare a letto molto molto prima e lo spazio-tempo del dopo cena è molto molto di più connesso ad altri tipi di attività quindi per me è stata proprio una rivoluzione estremamente importante il fioretto il voto questo tipo di modifica di un'abitudine nociva può essere fatta con qualsiasi cosa quello che posso offrirvi come sapete c'è un canale telegram dedicato proprio ad un accompagnamento abbastanza quotidiano dove invio spunti audio potete iniziare a scrivere lì i vostri fioretti le vostre abitudini nocive e posso cercare di aiutarvi ad accompagnarvi a metterli più a fuoco se avete delle difficoltà ma potete usare veramente qualsiasi ambito per chi fa poca attività motoria potete fare il fioretto di camminare almeno 15 minuti al giorno in natura per chi fa fatica a fare delle pratiche potete iniziare dandovi una scadenza chiara ogni giorno per chi fa fatica con del cibo potete togliere un certo tipo di alimenti per chi sa che mangia troppo di qualcosa moderare quel tipo di per chi è non regolare con certi orari darsi degli orari quindi sono tantissime opportunità per trasformare un'abitudine nociva in questo meraviglioso fioretto che potrà accompagnarvi per 40 giorni e vedrete che tipo di forza che tipo di allineamento la tua integrità riuscirà a offrirvi quindi il mio invito è che questo giorno possa essere veramente un giorno di grande celebrazione perché avrete la possibilità di dedicarvi ad un tema così prezioso sia come le relazioni intime e così prezioso come trasformare le nostre abitudini nocive quindi davvero un giorno da onorare e da festeggiare buon San Valentino buon inizio di Quaresima ci vediamo sul canale Telegram e ci vediamo per chi vorrà concludere nella luce e nell'elevazione di coscienza questi 40 giorni al ritiro di Pasqua a prestissimo ciao 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 ciao